chi è chi è o no nonno chi è la lacrimuccia eccola guarda eh quando vede chiara eh perché quando vede ecco vedi ecco c'è c'è più poco eh guarda che lacrimuccia in questo tempo spettacolare non sono riuscito a dire no a lei questa non delude mai lei non delude la ganna l'unica che non ti inganna adesso andavo a fare anche in giretto eh sei contento? eh sì sei contento o no? fermate Dio sempre oh sempre qui non amari sempre eh tu dici nel coccodrillo ti ho portato sei contenta eh ti fa arrabbiare qualche volta però le soddisfazioni tutte te le tolgo eh Andrea dove stiamo? alla a Montefalco alla madonna? alla stella bella eh eh bella eh sei contenta? ti piace questa? io e voi gli altri non siamo invitati sì ma ieri sera avete detto un bestemmione no e Don Dante lo ha sentito ha detto lo scomunico ma c'è niente Don Dante a trovarlo? ci vorrà venire perché dice che sembrava che era più di qua che di là e dopo c'è la benedizione Pasquale eh certo non c'è il diavolo no dentro fai una benedizione è il diavolito ma fai una benedizione comunque io benedico proprio i si impotenti stai ho specchiatoio di questo bestemmione scrocchellorum amè bello di Roma bello di Roma bello di Roma